ok ci sono perfetto allora possiamo iniziare amici di Tron World benvenuti nuova settimana, nuova diretta questa settimana con mio grande piacere ospediamo dalla Toscana Sergio Ponti, benvenuto Sergio è un piacere averti qui con noi grazie grazie, dal Piemonte però ah dal Piemonte ero convinto che eri toscano non so perché ho un certa inclinazione all'improperio come i nostri amici toscani però sono più amici toscani ah ok perfetto perfetto mi ero traviato, ero convintissimo che eri toscano quindi niente, dal Piemonte amici Sergio Ponti questo è perché il nostro comune amico Andrea Bianchi che è toscano ti parla spesso di me e a me lui parla spesso di te quindi probabilmente questo è svelato l'arcano sì, ovviamente è questa la cosa che inconsciamente mi ha portato a pensare che fossi toscano comunque vorrei iniziare la diretta parlando subito dell'argomento che più mi interessa ovvero come è nata questa tua collaborazione con il prestigioso sito di Dramio dunque dobbiamo riavvolgere un pochino il nastro perché il tutto nasce con la mia passione atavica ormai per le trascrizioni di batteria io ho avuto la fortuna di prendere lezioni di batteria da Furio Chirico che non soltanto è uno dei migliori batteristi secondo me italiani ma è anche l'unico batterista italiano di aver mai partecipato al festival di Modern Drum nell'edizione del 2002 tra l'altro portandomi con sé poi se volete vi racconto qualche retroscena di quelli e dopo ce lo dovrei raccontare per forza perché ormai l'hai detto Furio mi ha dato sempre una grossissima mano e mi ha indirizzato molto nella mia carriera musicale cose per cui non finirò mai di ringraziarlo mi ha dato i primi agganci per suonare coi gruppi a livello locale mi ha passato tantissimi dischi e poi mi ha detto guarda che tu sei abbastanza in gamba a fare le trascrizioni approfondisci quella cosa perché magari posso farti fare qualche lavoro per drum club o per percussioni cosa che è avvenuta allora io ho sempre fatto le trascrizioni per me per poter suonare dal vivo per ricordarmi i repertori delle band fino a un certo punto nel 2017 2018 ho pensato ma io seguo spesso drumium potrei provare a mandare una mail e propormi per vedere se servono dei trascrittori e la nostra collaborazione è iniziata così io ho lavorato per loro da esterno per due anni esatti in cui lavoravo su commissione e pagato a cottimo quindi più trascrizioni fornivo più mi pagavano fino a che a settembre di quest'anno mi hanno detto vorremmo fare una specie di colloquio con te per proporti un lavoro e assumerti in maniera tale da farti fare molto meno trascrizioni ma farti diventare un pochino il coordinatore di tutto quello che riguarda l'aspetto delle partiture e trascrizioni sul nostro sito bene bene intanto qua ti salutano Francesco Salvadeo e Alessandro Sergio ah ecco Francesco Salvadeo è un fonico ed è un chitarrista bravissimo nonché una gran brava persona poi quando parleremo del lavoro che ho fatto per Ian Anderson vi racconterò quali miracoli sonori ha fatto per quel brano mentre invece Alessandro Sergio mio caro amico di lunga data nonché grandissimo appassionato e collezionista di batterie dv bene bene benvenuti ragazzi è un piacere avervi qui allora visto che prima hai parlato di Fulio Chirico che ti ha portato con te al Modern Drummer a questo punto raccontaci qual è stato proprio il tuo percorso didattico fino all'arrivare a fare lezioni con Fulio Chirico e a questa esperienza del Modern Drummer allora io ho iniziato a suonare avevo circa 10-11 anni cosa per cui dico sempre ai miei allievi più piccoli quando hanno 8-9 anni e suonano già bene sei già più bravo di me perché hai iniziato prima e sei già più avanti mi ricordo che non so su MTV o su Video Music vedi il video di One Day Metallica e allora ovviamente saprai benissimo che c'è quell'inquadratura posteriore di Lars che suona le sestine nella parte in mezzo e quello secondo me per i batteristi della nostra generazione è un pochino come per quelli degli anni 60 aver visto i Beatles al famosissimo Ed Sullivan Show negli primi anni 60 molti batteristi americani hanno voluto iniziare a suonare la batteria vedendo quello io conosco molti batteristi italiani o europei che ho incontrato che mi dicono io ho visto il video di One e ho voluto suonare la batteria per me è stato quello quindi ho iniziato ho provato a suonare per circa due anni da autodidatta suonando sui dischi pensando anche di essere capace magari suonavo sui dischi di Brian Adams degli Eagles dei Creed and Scarewater Revival che sono una band che adoro tuttora e poi dopo mi sono reso conto che c'è questo brano su Injustice for All che si chiama Harvester of Sorrow e io non riuscivo a fare il gruppo principale dove perché la cassa e la mano destra facevano sempre la stessa cosa non riuscivo a fare gli ottavi con la mano destra e i sedicesimi con la cassa allora ho detto qua è meglio che vada a lezione perché sennò mi stupo dopo un po' e mi ricordo che aprì le pagine gialle e il primo numero di scuole di musica e batteria che venne fuori fu quello di Furio Chirico presi il telefono lo chiamai e iniziai a fare lezione così bene 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 e com'è stata la prima lezione di batteria proprio con Furio? mio papà mi ha portato mio papà io non ho più i miei genitori però mi hanno veramente supportato tantissimo nella mia carriera musicale e li ringrazierò sempre per questo mio papà mi ha portato e mi ha detto mio papà è molto vecchio stile è nato negli anni 30 quindi mi ha detto vediamo se il maestro dice che sei portato se sei portato facciamo lezione se no lo lasciamo perdere io sono andato suonichiavo già un pochino Furio è stato abbastanza incoraggiante mi ha detto ci sono da mettere a posto le mani so che non leggi la musica però hai un buon senso del tempo sei musicale quindi secondo me possiamo fare lezione quindi ho un bel ricordo mi ricordo benissimo il giorno in cui siamo andati mi ha fatto provare a fare due cose poi ha detto a mio papà ho solo più un buco il venerdì alle 6 che è stato il mio orario per tutti gli anni in cui sono andato il venerdì alle 6 bene 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 e invece quando ha deciso di portarti con sé al Modern Drummer cioè come è stato più che altro ritrovarsi in quel tempio di batteristi perché insomma poi il Modern Drummer era un po' il Wembley per qualunque batterista come palco è stato incredibile io ho avuto una fortuna all'epoca Furio non parlava bene inglese e Tama mandò una mail nel credo febbraio marzo di quell'anno parliamo del 2002 io e Furio assieme a Paolo Sburlati un altro personaggio storico del batterismo e giornalismo batteristico italiano a gennaio del 2002 andammo al NEM a Los Angeles non ho foto di tutto questo perché non c'erano i cellulari non c'erano i social media quindi non ho nulla se non mi ricordi però mi ricordo che io mi diedi parecchio da fare perché Furio voleva cambiare sponsor di batteria voleva passare dalla Ludwig alla Tama e io andai allo stand della Tama e incontrai due personaggi incredibili Bill Reeb e Terry Bissett Terry Bissett è uno dei più grandi manager musicali dell'industria ha lavorato per Ludwig ha lavorato per Sam Ash per Guitar Center e Tama per tanti anni e adesso di nuovo con Ludwig mi ricordo che parlando con loro un attimo mi hanno detto ma tu conosci Furio Chirico ho detto sì è di là allo stand della Paese e loro due pensa te erano appassionatissimi e sono ancora adesso di prog italiano dei gruppi più oscuri ma proprio di gruppi tipo Picchio dal Pozzo tipo già gli Osanna per loro erano troppo commerciali troppo mainstream e loro mi dissero ma dov'è dobbiamo subito incontrarlo perché è il nostro mito e allora gli dissero guarda se vuoi venire con tà ma subito noi ti facciamo firmare subito e riusciamo anche probabilmente a mandarti al Festival di Modern Drum Furio non sapeva ancora bene l'inglese merito grande merito a lui che non era più un ragazzino e l'ha imparato adesso lo parla bene però all'epoca non lo sapeva e allora disse ok io vengo al Festival però dobbiamo portare anche Sergio che mi fa da interprete e sono stato anche sul palco con lui mentre suonava a tradurre purtroppo quell'anno fu l'unico anno in cui The Hudson Music non raggiunse l'accordo per fare i famosi DVD o le videocassette quindi non c'è niente online di quelle performance io ho il DVD che fu filmato da quelli di Modern Drum e Furio suonò immediatamente prima di Thomas Lang poi mi ricordo che c'erano Jimmy De Grasso Tommy Igo Simon Phillips John Blackwell e poi la cosa bella è stato il contorno andare alle varie cene ai pranzi dove mi sono saluto di fianco a Joe Morello Carmine Apice tutti i batteristi più grandi erano lì quindi io avevo 21 anni all'epoca non ci potevo credere mamma mia guarda cioè riesco solo ad immaginare a parte l'emozione ma proprio il fatto di stare sul palco cioè anche se in qualità di interprete però cavolo a 21 anni sei sul palco del Model Drum Festival e stai comunque ricoprendo un ruolo sì è stato bellissimo perché appena siamo saliti sul palco Furio è stato il primo del sabato a salire c'è stato un attimo di silenzio e questo batterista di cui probabilmente avrei sentito parlare Sergio Bellotti che è in sedia al Berklee College of Music sì sì mi ricordo che gridò dagli spalti forza ragazzi forza Italia e quello ci diede subito una carica incredibile allora scattò l'applauso di tutti perché alla fine c'erano molti italo-americani in sala è stato un momento molto bello quello ah bello grande mossa quella di Sergio perché comunque in quei momenti su quel palco la tensione immagino si senta proprio ai massimi livelli sì è stato anche la responsabilità di dover suonare prima di Thomas Lang che comunque a livello proprio mainstream è un grandissimo nome io ti dico una cosa quello fu lo spettacolo che proiettò Thomas Lang al pubblico americano fino ad allora Thomas Lang nessuno sapeva chi era in America nessuno sapeva chi fosse infatti lo visero come secondo non come opening act ma suonò Furio mi sembra suonò alle due e Thomas Lang alle due e mezza e poi c'erano che adesso sono quasi spariti come alcuni session che suonavano all'epoca nel mondo del pop in cui non si è più solito parlare erano tutti dopo però mi ricordo quella performance di Thomas incredibile Furio invece ha alcune sfighe perché il dat al primo pezzo si mangiò il nastro della cassetta allora avevamo un cd di scorta e il cd saltava quando ho aggiustato quello si ruppe la molla del pedale io mi buttai mi ricordo che mi buttai sotto la pedana di Furio per mettergli a posto si sganciò non so se hai presente ovviamente l'iron cobra la molla non è fissa si sgancia con un anello Furio lo teneva talmente molle che l'anello si sganciò allora io mi misi mi misi lì per ripararlo e poi quelli della Tama furono talmente soddisfatti del lavoro che ho fatto che mi hanno detto se vuoi ti puoi prendere il pedale e te lo puoi portare a casa ce l'ho ancora adesso te lo regaliamo pensa te che storia si si ce l'ho ancora qua fighissimo fighissimo allora guardi intanto mi prendo due secondi vai perché ti sono qua altri saluti Andrea Bianchi e Vito Guerrieri ah grandi Andrea lo sappiamo Vito invece è un batterista di Torino bravissimo che è stato un allievo di Sergio Pescara che da tanti anni vive e lavora suonando sia nelle registrazioni studio che nei musical in Inghilterra è un batterista bravissimo poi vai a vedere alcune cose che ha fatto ha un setup molto particolare che ricorda un po' quello di Sergio Pescara se non sbaglio ed è un batterista molto ferrato nell'ambito hard rock e metal ah buona saperci allora guarda Vito ti invito proprio qua pubblicamente mandami un messaggio in privato su su Dramward sulla pagina Facebook che sarà un piacere fare i tuoi chiacchiere insieme ed è arrivato anche Giampiero Brignone che ti saluta ah sì Giampiero è grandissimo è il direttore dell'istituto musicale di Fossano Fondazione Fossano Musica che è una scuola in cui ho insegnato per sei o sette anni e lui è un trombonista di livello mondiale perché è stato il trombonista dell'orchestra del Maggio Fiorentino è un musicista di primo ordine ed è un direttore molto bravo con cui sono molto contento di aver collaborato quest'anno purtroppo non sono più in quella scuola perché ho dovuto scegliere di rinunciare a quella la cattedra per lavorare con Drameo però se posso dire una cosa di Giampiero a cui ci tengo è che è l'unico direttore di una scuola musicale che ho visto che quando che non sta seduto in ufficio e dà le indicazioni ma quando c'è da fare qualsiasi tipo di spettacolo iniziativa è il primo andare a prendere montare l'impianto fare sui cavi ed è l'ultimo andare via e fa il service ed è un trombonista di livello mondiale cioè non è uno che si è inventato direttore però la scuola funziona bene proprio per quello perché c'è un direttore che trascina tutti invece che spingere da dietro come si dice stare sul pezzo assolutamente invece adesso vorrei fare un tuff indietro in questa nostra diretta quando appunto hai parlato di Francesco Salvateo e del miracolo che ha fatto sul brano di Ian Anderson perché tu hai collaborato con Ian Anderson che insomma è cantante e flautista di Getro Tal quindi insomma racconti sia del brano sia della collaborazione con Ian Anderson Getro Tal sono il mio gruppo preferito io dico sempre che se uno dovesse prendere solamente una band e imparare a suonare la batteria in maniera abbastanza completa spaziando tra i generi dovendo solo ascoltare un gruppo dovrebbe scegliere Getro perché Getro hanno la musica folk il blues lo swing l'hard rock dei pezzi proto heavy metal degli album di fine anni 70 hanno delle parti di doppia cassa molto complesse hanno i tempi dispari hanno la musica elettronica negli anni 80 c'è di tutto dentro e io mi sono appassionato di Getro perché Furio un giorno quando andavo a lezioni mi dice ma tu li conosci Getro? no mai sentiti io avevo 16 anni come non l'hai mai sentito? no non l'ho mai sentito solo conosco il nome ma non mi sono mai io ascoltavo i Rush all'epoca ascoltavo un sacco di metal e lui mi diede thick as a brick e io mi dicono che andando a casa lo ascoltai e rimasi veramente spiazzato e ad allora sono diventati il mio gruppo preferito e un paio d'anni dopo ho iniziato a suonare con un gruppo di Alessandria con cui sono ancora oggi che si chiama Beggars Farm che nacque nel 1996 come una tribute band di Getro Tal per opera di Franco Taulino che è il nostro cantante flautista manager tutto a fare un eroe per me veramente e colui che ha insistito che io mi trascrivessi le parti nota per nota perché volevano fare i pezzi in maniera più accurata possibile allora dopo qualche anno i Beggars sono diventati un po' un riferimento per i musicisti dei Getro ma anche di altri gruppi di prog come Bernardo Lanzetti cantante della PFM o David Jackson dei Van der Graaf Generator che ci hanno usato come band quando dovevano fare delle cose soliste e spesso abbiamo fatto da house band per le convention dei fan club dei Getro e questo ci ha permesso di suonare con tanti musicisti della band inglese compreso Ian Anderson un po' di volte che ha visto che io mi trascrivevo le partiture in maniera molto dettagliata e allora mi ha detto ma io sto cercando qualcuno che mi faccia da trascrittore e copista per l'archivio tu hai voglia di lavorare per me e dall'epoca parliamo del 2008 abbiamo collaborato in certi momenti molto intensamente altri un po' meno poi questa primavera in lockdown mi arriva un messaggio di un amico che mi dice guarda questa ragazza come suona bene e io vado sulla pagina Facebook di questa ragazza che si chiama Arianna De Lucrezia che è di Roma che suona il basso in maniera incredibile ed è partita dei Getro e ha 16 anni allora ho mandato un messaggio a Anderson dicendo ma hai visto questa ragazza che brava sono tutti pezzi a memoria e lui mi ha detto ma la conosci di persona no solo via Facebook perché abbiamo un amico del papà che è in comune mettimi in contatto subito che voglio fare voglio dare due dritte voglio passarle un po' di materiale e poi parlando con Arianna è nata questa idea di fare un pezzo assieme a Anderson con tutti i collaboratori che in tanti anni in Italia hanno lavorato con lui e lui ha detto Sergio alla batteria Brian alla chitarra e tutti gli altri quindi è nato così e Francesco Savaldeo eravamo in lockdown non c'era neanche uno studio aperto allora siamo andati a casa di questo questa è un'altra storia incredibile siamo andati a casa di un designer famosissimo che si chiama Chris Bangle che per 17 anni è stato il designer principale della BMW abita vicino a me e io lo conosco e gli ho chiesto Chris io ti faccio un lavoro di registrazione gratis più avanti per un'altra cosa su cui stiamo lavorando mi presti casa tua che è molto bella e ha un'acustica buona per fare questa registrazione del brano mi ha detto venite pure e io ho portato la batteria e tutto e Francesco questo è a testimonia del suo grandissima della sua grandissima abilità Francesco mi ha microfonato la batteria con un numero di microfoni essenziale mi ricordo uno per tre ton uno per il timpano cassa rullante panoramici il suono è incredibile e chiunque l'abbia sentito da John Tempesta dei Testament cult a Ian Henderson mi ha detto ma chi è estonico di questa cosa perché i suoni sono incredibili quindi con una registrazione da campo proprio si è portato il mix ai microfoni i cavi abbiamo calvato io ho fatto due take e ho scelto di usare la seconda chiunque si è complimentato con Francesco che è anche un chitarrista molto bravo bene bene bellissima storia nel frattempo hai altri saluti Picchio Massari che ti dice anche che ti saluta Manuel Jacopo Coretti no scherzo scherzo sono tutti amici e Alessandro Sergio che dice Sergio immagina le cose in velocità e le rende possibili chi lo conosce sa sì nella trascrizione sì nella batteria anche nelle altre cose un po' meno perché spesso mi prendo delle fegature incredibili quando avrei dovuto vedere le cose prima però vabbè mentre invece l'altro Jacopo Coretti grandissimo batterista organizzatore per anni del festival Alatrim Blues con cui andiamo con Marco Minneman a suonare nel 2009 nel 2009 con Marco Minneman hai detto sì 2009 c'era anche Dave Weigl sì che suonò dopo ho suonato ho suonato anche io quel giorno io ero quello che presentava ho presentato il faccio da tecnico a Marco ci sono anche i video su YouTube pensate io quel giorno suonavo allo stand della Stocco Drums ma quindi eri lì nella piazza della cattedrale sì sì esatto allora ci siamo sicuramente incrociati perché con Marco abbiamo fatto il giro di tutti gli stand che c'erano lì Vibe e tutti gli altri sì sì sicuramente io mi ricordo anche quando il bassista di Dave Weigl che mi ricordo male se era Tom Kennedy si mise a provare dei bassi artigianali che erano là in esposizione c'era anche Marco Iannetta e non mi dimenticherò mai quando la polizia ha bloccato mi pare il soundcheck di Minneman perché era l'ora della messa una cosa del genere sì sì mi ricordo è vero io ho il video proprio di quei minuti lì di poco prima che lo bloccassero infatti si sente già il campanile nel video che è su YouTube che inizia a rintoccare stava suonando Black Page di Zappa e poi dopo pochi attimi ci hanno fatto smettere in serata invece ricordo che Marco si alzò per salutare la gente andare davanti a fine e diede un calcio alla pedaliera di Mike Stern scollegando tutto e io poi ho provato a rimettere assieme ma ovviamente appena ho salito Mike Stern sul palco non gli funzionava la cosa guarda io invece poco prima che finisse di suonare Marco Miriam sono andato via nel fare la discesa che li portava dove ho parcheggiato la macchina trovo il furgone che portava Wagle Mike Stern e compagnia bella bloccato perché c'erano i piloni quelli che si alzano e si abbattano che per esempio erano alzati di loro non riuscivano a passare mi ricordo la faccia di Stern e Wagle non proprio Allegra perché erano bloccati lì però comunque veramente c'è festival stupendo e tra l'altro Jacopo ho avuto il piacere di intervistarlo un paio di volte e ricordo anche quando ha portato Kevin Harrison a Roma è sempre stato un ragazzo bravissimo Jacopo è veramente un grande sempre sul pezzo organizza cose fantastiche infatti già che sta qui Jacopo rimani libero perché insomma finisco quello che è un programma e poi tocca a te l'anno dopo mi invitarono Jacopo e suo padre a fare il presentatore del festival quindi andai giù e facevo il presentatore presentavo tutti è stata una bella esperienza anche quella grande grande vedi guarda mi sta piacendo questa diretta perché escono fuori un sacco di cose in comune cose incrociate il bello della musica allora intanto ti arrivano altri saluti da Eric Concas e Francesco Fiore Eric Concas è un grandissimo cantante con cui ho avuto l'onore di suonare di suonare per un paio d'anni in una band di prog a Torino che si chiamava Sign mentre invece Francesco Fiore dovresti conoscerlo prima o poi perché è un artigiano che sta dalle tue parti se non sbaglio a Tivoli e fa delle batterie e dei rullanti in legno artigianali che suonano benissimo hai riuscito a convincere a me che mi piacciono solo i rullanti in alluminio a suonare un rullante in legno ed è il miglior rullante che abbia adesso quindi Francesco è veramente bravissimo una brava persona ed è di Tivoli se non sbaglio quindi sì molto molto vicino Fiore drums e è appena arrivato anche Francesco Fratuccelli che ti saluta Francesco è leggendario nell'ambiente di Torino per essere un chitarrista che è sulla scena da tanti anni è bravissimo è veramente io da quando ero piccolo volevo suonare con lui poi pensa che abbiamo iniziato a suonare assieme abbiamo fatto due prove abbiamo messo sull'intero il repertorio dei Rainbow per suonare in giro prima del lockdown e poi è finito tutto lì bene benissimo e lui Francesco ha suonato molte volte con Ian Pace molto molto bravo no Fabrizio non Francesco Fabrizio Fratuccelli ha suonato tantissime volte per tanti anni in tutte le cliniche italiane che Ian Pace faceva ah abbiamo invece un saluto dall'estero da parte di Orvat Julian che scrive ciao Sergio can't wait to see you again have an awesome stream friend qua si apre una parentesi importante perché io ho un grosso legame con la Romania lui è romeno questo ragazzo che conosco io ho iniziato a suonare con una band negli metà anni 2000 di Padova che si chiamava Eiffel Duat magari l'hai sentita nominare sì li conosco molto bene c'era prima due batteristi molto bravi prima di me che sono Davide Piovesan e Andrea Rabuini poi subentrai io per suonare dal vivo per circa un anno con loro e in una delle tournée che facciamo oltre a suonare anche all'Elfest conobbi questa band rumena che si chiamava Negura Bunge e dopo lo scioglimento di questa band i due chitarristi mi proposero di entrare frappati di un progetto nuovo che loro avevano che si è poi chiamato D'Or De Du con cui ho suonato dal vivo sia con quella band che con una costola della band che si chiama Sunset in the Twelfth House per tanti anni per quasi dieci anni e ci siamo tolti tante soddisfazioni abbiamo fatto parecchie tournée europee abbiamo suonato anche lì all'Elfest al Waken neanche sui palchi più piccoli quindi davanti ai platelli già 10-15 mila persone e abbiamo fatto se non sbaglio quattro tournée europee con loro e in Romania ho anche conosciuto mia moglie che era una fan una fan del gruppo e stiamo pensando di spostarci lì a vivere il prossimo anno anzi più che pensando quindi è il mio posto preferito tra quelli dove ho suonato veramente non ho sai preso l'abbaglio di una data ho suonato per dieci anni e ti posso confermare che purtroppo per noi in Italia la Romania musicalmente è mille volte più avanti già solo per il fatto che non ci sono cover band bene bene e vabbè ma guarda mi dispiace dirlo ma più che altro per un problema proprio culturale siamo indietro a tanti tanti paesi non lo siamo per qualità dei musicisti ma lo siamo per un problema diciamo di cultura perché secondo me come musicisti siamo non abbiamo nulla da invidiare a nessuno però pensa su questo ultimo tuo racconto proprio per dirti come la musica fa incrociare le cose tu pensa che io con una band metalcore con cui ho suonato tra il 2006 e il 2009 ho aperto un concerto a Roma degli Eiffel Duat ma non eri due il batterista non ricordo chi era ricordo solo che era molto bravo e invece il primo tour che ho fatto con gli Shorts of Null che sono la mia band Gothic Doom è stato un tour di sedate in Italia di supporto Negura Bundjet però era la line up in cui c'era solo Negro il loro storico batterista purtroppo deceduto tempo fa certo se si eravamo amici lo conoscevo bene quindi insomma per dirti come stanno uscendo poi degli incroci pazzeschi oggi adesso voglio dire ancora una cosa sulla Romania ci sono tantissimi batteristi eccezionali che mi piacciono ma ce n'è uno in particolare che si chiama Septimio Horshan con cui siamo molto amici lui è un batterista è un fenomeno tu immagini dopo ti manderò qualche link è un misto tra Derek Roddy e Gavin Harrison ma non sto esagerando ed è un batterista che ha scoperto per tanti anni nei Pestilence è stato l'ultimo batterista dei Pestilence e anche dei Disavowed e di altri gruppi della scena estrema è veramente un batterista incredibile suona il death metal con l'approccio di Dave Weckle è veramente pazzesco bene bene mandami qualche link perché sono curioso intanto leggiamo il commento di Valentin George Payne che scrive all I understand is bibidi babidi but it's such a joy to see Sergio getting so much love from everybody I know him since 2019 and every collaboration was a great experience ah sì Valentin è grande hanno uno studio lui è il suo collega Julian a Bucharest che si chiama Metal Foundry sono stato a registrare qualche volta da loro e hanno anche una bellissima band che si chiama Mind Cage e sono due modulisti molto bravi e soprattutto come fonici sono eccezionali Valentin è anche un batterista mentre Julian suona la chitarra e due bravi ragazzi due bravissime persone non vedo l'ora di rivederli bene bene e invece senti visto che prima stavi parlando insomma di questa tua idea di trasferirti in Romania quali sono diciamo le ragioni che ti hanno portato diciamo a prendere questa decisione musica a parte perché è una cosa che mi incuriosisce tanto certo innanzitutto non sono quello che va via dall'Italia e dico in Italia tutto uno schifo perché altrimenti non sarei stato qua tutti questi anni semplicemente ho tanti amici a cui sono molto molto affezionato mi piace la scena musicale che c'è non nego che economicamente avendo adesso un contratto con Dramio per me è molto più vantaggioso abitare in un posto dove la vita costa più o meno un quinto rispetto a quello dell'Italia quindi uno riuscirebbe anche a mettere da parte qualche soldo magari sì queste qua sono le tre ragioni principali mia moglie è rumena quindi anche lì la famiglia sarebbe più vicino principalmente io ti direi la scena musicale e anche per ragioni economiche non te lo nego non nessun problema a dire ok ok no no guarda era proprio una mia curiosità anche perché nelle dirette mi piace anche uscire fuori dal discorso musicale è bello creare un vero e proprio confronto quindi insomma tu mi stai comunque dando un tuo punto di vista ed è bello che lo si possa condividere sì sì grazie a questo punto ti faccio una delle domande particolari che faccio sempre durante le le dirette ovvero l'argomento è che cosa è cambiato negli anni allora io se ripenso a quando da adolescente mi sono innamorato della musica della batteria ricordo per esempio il bellissimo rapporto che avevo con tanti negozianti di Roma di negozi di dischi negozi di strumenti musicali che comunque andavo chiedevo consigli provo strumenti mi venivano consigliati dischi e tutto quanto e ricordo quanto questo diciamo faceva crescere in me la curiosità la voglia di comprare le riviste di scoprire nuovi batteristi secondo te oggi a distanza diciamo di 20 30 anche 40 anni cosa è cambiato con l'avvento dei social secondo te si è completamente esaurita la curiosità nei giovani o è semplicemente cambiato l'indirizzo di questa curiosità con i social questa è un'ottima domanda guarda fino a qualche tempo non c'era più l'entusiasmo in realtà adesso che perché non ero un grandissimo utilizzatore né dei social ma neanche soprattutto della tecnologia applicata alla musica da quando ho lavoro con Dramio negli ultimi due anni ho visto che in realtà c'è tantissima attenzione e curiosità sotto forme diverse perché io e te ci prendevamo il pullman per andare a comprare il disco mentre nel tragitto in cui tornavamo a casa sapevamo già tutti i credits e i testi del disco mentre invece adesso questa cosa non c'è più perché con lo streaming o acquistandoli da Amazon o da iTunes li puoi avere a casa in due click secondo me c'è sempre curiosità negli allievi che ho a volte la devo instigare gli passo dei dischi o gli faccio sentire delle cose è cambiata perché adesso è un pochino più tutto a portata di mano se vogliamo quindi è anche magari un pochino più dispersivo uno non sa bene che cosa scegliere ti devo dire però che vedendo Dramio da dentro io vedo che ad esempio il progetto che ho contribuito a far nascere con Dramio che si chiama Songs che è questo grandissimo database di trascrizioni nota per nota di canzoni multigenere perché io già solo ieri ho aggiunto da Ariana Grande ai Cannibal Corpse a Crystal Mountain dei Death a non lo so agli Outkast c'è di tutto l'idea è di arrivare almeno 5.000 canzoni adesso ce ne sono mille online comunque i brani più richiesti sono quelli dei Beatles io non l'avrei mai detto però chiunque in tutte gli age group che noi vediamo da dentro chi fa le richieste quanti anni ha tutti vogliono suare i Beatles che è una cosa incredibile secondo me nel 2020 non c'è quasi richiesta per dei gruppi che noi diciamo ma come non vogliono suonare i Leprous che ce n'è richiesta ovviamente però vogliono fare i Beatles quindi c'è molta curiosità secondo me adesso magari ti richiedono la canzone singola da imparare anche se con Drameo c'è un mio collega trascrittore John Foster pazzo che si è preso l'incarico di trascrivere tutta la discografia dei Beatles che sarà online presto tutta dal primo all'ultimo pezzo mamma mia è un lavorone è bravissimo tutta la discografia dei Beatles è pazzesco beh io ti ho scritto tutto quello di Getro allora ancora più pazzesco ugualmente diciamo bene 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 e invece secondo te proprio perché parlavi dello streaming oggi si sente spesso parlare del fatto che comunque Spotify YouTube Music diciamo tutto questo streaming stia un po' ammazzando le vendite fisiche dei dischi secondo te questo è dipeso solo dal fatto che la musica è disponibile in maniera così facile su tutte queste piattaforme o forse perché è una domanda che spesso pongo anche io a me stesso forse non escono più tanti dischi belli come una volta ma semplicemente perché oggi si compone più in fretta per esigenze di mercato mentre prima invece si prendeva molto tempo per comporre un disco questo non saprei dirte non ho la risposta ho delle idee sul fatto che i dischi belli escono ancora ma ne escono talmente tanti rispetto a prima che a volte è difficile scovarli qualche anno fa ho scoperto questo gruppo islandese eccezionale che si chiama Agent Fresco non l'avrei mai mai trovato quel disco lì i pezzi sono bellissimi il batterista è eccezionale se un amico Robeno non mi avesse detto vai a sentire quel disco io avevo visto mille volte il nome non ero mai preso la briga di andare a ascoltarlo adesso sono una delle mie band preferite l'altra cosa è che probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa una ventina d'anni fa per cercare di regolamentare un po' meglio la pirateria musicale e lo streaming io continuo a dire che quando Lars Ulrich che è uno dei miei idoli tirò su tutto quel polverone con Napster e fu accusato di essere un riccone che voleva il suo interesse e tutto in realtà secondo me Lars voleva veramente solo tutelare perché Lars all'epoca era già miliardario non gliene fregava niente secondo me di tenersi ancora più soldi la sua idea era quella di tutelare gli artisti purtroppo l'ho preso in giro tutti e adesso vedo tantissima gente in streaming online o in post che dicono in effetti se gli avessi mutato una mano aveva proprio ragione eh sì ma purtroppo nessuno è mai profeta in patria no? esatto io mi ricordo che lo massacrarono proprio cioè gli hanno detto di tutto a sto povero Lars però in effetti ci aveva visto lungo sì sì me lo ricordo molto molto bene perché fecero anche non mi ricordo su quale cartone animato c'era proprio la presa in giro di lui che si lamentava nella sua piscina d'oro no? ah penso non lo sapevo eh sì non ricordo non ricordo se erano i Simpsons i Griffin o South Park comunque un cartone animato di Sadia aveva inserito questa cosa di lui che si lamentava del fatto che nella sua piscina d'oro non poteva buttarci altri dollari per la faccenda di Napster quando in realtà io all'epoca non sapevo cosa pensare perché ho detto effettivamente se poi tutti se tutti sì mi veniva solamente il pensiero se tutti i dischi sono gratis su su delle piattaforme cioè come se io vado al supermercato prendo da mangiare e non lo pago più esatto cioè comunque dietro un prodotto qualsiasi prodotto c'è qualcuno che ci ha lavorato dietro e qui sono dei costi al momento che tu non lo paghi più quei costi non hanno nessun rientro e secondo me Lars che comunque è un business man pazzesco aveva già individuato questo problema subito sì solo che solo che ormai dargli ragione a distanza di 20-30 anni non serve più a niente perché ormai facile adesso dire aveva ragione eh sì anche perché oggi come oggi se ci pensi un disco non fa in tempo ad avere nei negozi che il giorno prima lo trovi già su qualche sito russo dove comunque è possibile scaricarlo esatto nel frattempo Alessandro Sergio scrive confermo ricevuto come regalo da Sergio agent fresco incredibili con una batteria incredibile e poi ti saluta Marco Bellone Marco Bellone è grande Sergio Alessandro Sergio sì gli agent fresco sono una band incredibile ho fatto anche un'intervista al loro batterista che si chiama Kelly Kelly è il soprannome perché è un nome islandese che per noi è impronunciabile per la rivista americana Drumhead Magazine di Jonathan Mover e una trascrizione anche Marco Bellone invece è un tastierista che suonerebbe in teoria con me Fabrizio Partuccelli ma al momento è tutto fermo e anche lui ha fatto per un certo periodo una diretta una serie di dirette come la tua con un format che si chiama Vinyl Talk e mi ha invitato in primavera è stato molto interessante bravo tastierista molto bravo quindi presumo fossi incentrato sulla passione per i nili sì più che altro mi ricordo che l'idea c'eravamo io Corrado Bertonazzi un altro nostro amico Giorgio Mattiauda che partendo da se non sbaglio Toto4 commentando le tracce di batteria di Toto4 divagammo per tutto il pomeriggio bellissimo bello bello tra l'altro anche grande Corrado Bertonazzi una persona che sta facendo un lavoro pazzesco infatti non ho mai compreso bene purtroppo quelli che gli danno addosso perché tanto come sempre come fai sbagli ma guarda io portando in giro per anni Marco Minneman ho visto gente che davvero sua Minneman quindi cosa vuoi dire uno così che oltretutto è anche una brava persona è anche una brava persona non è che dici sei uno stronzo scorretto lo vedi suonare bravo disponibile impara qualcosa magari ma guarda sono sempre dell'idea che a parlare diciamo siamo più o meno tutti bravi poi adesso con i social la famosa figura del leone da tastiere è proprio imperversa è vero però secondo me la differenza alla fine la fanno sempre i fatti ecco io ho visto persone che condividevano le prime cose sui social che faceva Corrado il corso dell'accordatura della batteria e dicevano vabbè ma tu vuoi fare i soldi con un corso per l'accordatura della batteria mi veniva sempre in mente vabbè ma lui comunque l'ha fatto cioè nel senso se non ti piace non sei costretto a comprarlo non ti sta obbligando quella persona ha fatto un lavoro sta a te decidere se acquistarlo o no dargli fiducia o no tanto poi parlano i fatti se comunque tu vendi aria fritta non durerai tanto se quello che invece vendi ha dei contenuti andrei avanti e a giudicare da come è andata Sergio per i contenuti tra l'altro io le seguo tutte le cose che pubblica su youtube e le ho sempre trovate interessanti sì sono bellissime chiaramente non posso parlare per lui e non voglio fare i conti in tasca però secondo me gli va molto bene questa parte del business che ha ma gli va bene perché i contenuti ci sono io ho il suo corso per la registrazione sto imparando a registrare a casa da qualche mese seguendo quello e ti posso dire che io sono passato possiamo fare un video in quarantena sì ma vi filmo col telefono adesso posso registrare delle cose in multitraccia chiaramente non sono bravo né come Valentino o Francesco perché loro fanno quello di lavoro però posso fare delle cose decenti e questo lo devo a Valentin che mi sta insegnando con delle lezioni online che facciamo su Reaper la domenica sera e al corso di Corrado se non avessi avuto il corso di Corrado che mi diceva collega il jack A nella presa B alza questo io sarei ancora lì che non capisco niente invece funziona veramente sì perché te l'ho detto la differenza la fa sempre il fare piuttosto che il parlare qui chi è che è arrivato Fabrizio Fraducelli scrive Marco Bellone mi sa che dobbiamo trovare un nuovo batterista e poi c'è Emanuele Cacchioni che scrive conoscendo Sergio la discografia dei Getro se l'era già trascritta almeno 15 anni fa per i fatti suoi ti ha ragione lui è un mio amico batterista molto bravo soprattutto nell'artcore punk ha una potenza incredibile ed è valdostano io sono anche molto affezionato alla Val d'Aosta perché ho frequentato lì ho insegnato sia ad Aosta che in banda nella mitica banda di Montjové grazie a Emanuele che mi ha dato l'aggancio e ho dei ricordi bellissimi suoi di Daniele Cogo Alessandro Solari Fabio Craties c'è una comunità batteristica in Val d'Aosta che è fantastica Lollo che è un mito veramente Emanuele ha organizzato dei festival anche per un paio d'anni se non sbaglio è uno che si sbatte tantissimo io direi che nella bassa Val d'Aosta la scena musicale estrema o punk se vogliamo chiamarla così sta ai piedi grazie a lui perché fa dei lavori incredibili ed è una persona di cuore molto bene molto bene guarda sono contentissimo perché c'è un'aria un mood veramente positivo in questa diretta più che altro tanto affetto nei commenti c'è tanta stima un confronto veramente bello ci tenevo che devo dire è che sicuramente sono molto è vero è una persona di cuore aspetta che ho fatto un casino qua non so più cosa sto facendo no ci tenevo a dire che in realtà è vero che ho molte persone che gli vogliono bene e io voglio bene a tutti questi che mi hanno scritto e a molti più sicuramente negli anni ho fatto anch'io le mie vittime lungo la strada i casini perché mi ricordo quando ero più giovane sicuramente a volte ho preso delle decisioni sbagliate di entrare in un gruppo o di lasciare un gruppo e magari l'ho fatto in maniera un po' veloce o non completamente corretta anche non ho nessun non ho mica nessun problema a dirlo però sono contento che praticamente con tutte queste persone negli anni che non sono tante per fortuna si contano in meno che delle dita di una mano abbiamo sempre ricucito abbiamo avuto modo di parlarci adesso siamo amici quindi mi ricordo quando suonavo con gli illogicists li mollai un po' all'improvviso perché gli FL2 mi chiamarono per andare a suonare c'erano delle date però io gli FL2 mi dissero c'è un tour europeo vieni noi ci serve il batterista io ovviamente andai lasciando gli illogicists in baraghe di tela cosa che adesso gestirei sicuramente in maniera diversa però è andata così almeno quando ci siamo rivisti loro sono di Aosta anche siamo andati a bere più volte birre assieme o ci parliamo in maniera civile quindi secondo me se c'è stata un'asce di guerra è sotterrata da anni ok guarda hai appena ritirato fuori un altro incrocio perché io ho un ottimo rapporto con gli illogicists con Luca Minieri e con quello che è stato poi il batterista credo dopo di te a questo punto che è Alessandro Tinti bravissimo li ho conosciuti perché loro vennero a suonare a Roma e io aprì il loro concerto con quella che era la mia band progressive strumentale e con Alessandro già da MySpace che ci conoscevamo c'era c'era uno splendido rapporto poi dalla c'è diciamo questa amicizia sia virtuale che di persona che non è non è mai finita abbiamo suonato insieme penso due o tre volte e loro tra l'altro band pazzesca tutti e tre gli album sono veramente incredibili sì sì confermo non è una cosa che io adesso ascolto più molto frequentemente quel genere di musica però se penso che ho avuto anche io una piccola io non ho mai registrato con loro se non un demo perché io sono stato ho suonato live e poi quando ho momento di registrare il disco dopo sono poi andato negli FL2 però di essere stata una piccola parte di alcune canzoni che sono finite poi su uno dei dischi mi ha fatto molto piacere e Luca tra l'altro è un fonico molto in gamba sì sì me lo ricordo me lo disse già all'epoca io guarda quando li ho conosciuti era un periodo in cui stavo riscoprendo per l'ennesima volta i det quindi poi mi ha incrociato tra capo e collo questa pagina mai spesso ho sentito i brani poi ho letto che il disco l'aveva registrato Marco Minneman io ho appena acquistato Extreme Drumming quindi sono proprio impazzito certo sì sì vabbè Minneman glielo ho fatto conoscere io perché abbiamo abbiamo organizzato assieme a Marco e alla dv la parte italiana delle riprese di un dvd che è uscito qualche anno fa che si chiama The Marco Show sì ce l'ho ok parte di questo che è il footage in bianco e nero l'abbiamo filmato in uno studio anzi in un castello in Val d'Aosta ed è stato registrato da Luca Minnieri e c'è anche Emilio che suona il basso Emilio degli illogici grande Emilio infatti se vai a vedere nei credits credo di essere non so produttore esecutivo non mi ricordo come mi hanno accreditato ora non me lo ricordo perché acquistai quel dvd appena uscito l'ho consumato però sono anni che non lo riguardo quindi a questo punto adesso nella sezione bonus c'è una parte girata in un castello in Val d'Aosta ecco quella roba lì la combiniamo con Luca Emanuele Cacchioni Daniele Cogo tutti loro che hanno mandato una mano bene bene allora poi niente adesso sto girando perché lì ho la mia baia con tutti i dvd e a questo punto me lo devo rivedere perché adesso sono curioso anche di andare a cercare il tuo nome un giorno due o tre giorni di riprese belle ovviamente l'acustica Luca ha dovuto fare i miracoli perché l'abbiamo registrato dentro un'enorme stanza di un castello quindi abbiamo dovuto penare un po' per trovare dei bei suoni però quando il fonico è bravo come nel caso di Luca Francesco Valentino non c'è nessun problema bene bene invece senti nonostante diciamo questo periodo di blocco per la musica causato dalla pandemia hai qualche progetto in cantiere qualcosa su cui stai lavorando no non ho nessun progetto in cantiere è nuovo sto imparando nel poco tempo libero che ho tra le lezioni che faccio online perché in una scuola ho deciso di continuare a insegnare ancora un giorno alla settimana e Drameo per cui lavoro ancora part time per adesso loro mi hanno fatto un'offerta full time ma io non volevo ancora smettere di insegnare praticamente non ho tempo di fare altro mi piacerebbe suonare con Fabrizio Frattuccelli Marco Bellone Roberto Cassetta e Piero Lepolari in questa band Rainbow perché mi piacciono le canzoni loro sono bravissime sono degli idoli a Torino hanno una band alcuni di loro che si chiama 6070 che c'è dal 1989 e sono veramente uno dei migliori band che abbia sentito nel panorama nazionale suonare quindi per me poter suonare con loro è molto molto bello però adesso non si può fare purtroppo poi in realtà col gruppo dei Rainbow non c'era in mente di fare tutte queste date quindi Fabrizio te lo dico anche se vado in Romania io torno a suonare quando ci sono le date vengo il biglietto costa 30 euro venire in Italia quindi non c'è problema è bene hai già come si dice eliminato un possibile problema un possibile pensiero esatto sul nascere bene bene e invece senti qual è la cosa che ti piace di più nel tuo lavoro di insegnante quando vedo che i ragazzi migliorano e anche se è scontato quando vedo che i ragazzi fanno delle cose pensandole da un angolo da un punto di vista a cui io non avrei pensato e quando le fanno quando gli allievi bravi perché ne ho qualcuno che seguo da un po' di anni che è veramente bravo vedo che le fanno meglio di me o che le fanno in una maniera che io proprio non ci avrei neanche minimamente pensato studiando tutte le combinazioni bene bene come il famoso detto insegnare e studiare due volte guarda che non c'è dubbio ed io da quando insegno ho imparato tante cose meglio non ci posso credere invece se avesse solamente suonato certe cose non le avrei curate abbastanza bene 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 e invece vediamo un po' perché ho parlato così tanto che mi sono perso qualche pezzo su cose che ti volevo chiedere quindi sto rovistando nella mia memoria a questo punto che te lo volevo chiedere da prima che batteria è quella dietro la tua testa è una Yamaha Recording Custom questa ce l'ho da qualche anno ho avuto l'occasione di prenderla usata da Rigo Music che è un negozio fantastico che abbiamo a Torino di cui sono cliente e anche amico dei proprietari o Marco e dei ragazzi che ci lavorano dentro non voglio fare pubblicità magari però spedisco in tutta Italia e dell'assistenza è veramente fuori dal comune cioè si fanno in quattro per fare di tutto e questa batteria l'ho sempre un po' cercata fino a quando ero bambino perché mi è sempre piaciuto il suono molto controllato e fermo che aveva adesso c'ero da 4-5 anni l'ho usata per registrare parecchi dischi negli ultimi due anni in realtà ho altre batterie adesso qua non le vedi ne ho troppe ne ho ancora due no una in Romania che conserva questo mio amico che si chiama Flavius Retea che è lì per quando andrò ho una Tamburo che mi fece Tullio Granatello nel 90 no nel 2004-05 che è un set abbastanza economico però anche lì chiunque lo sente rimane spiazzato ed è quello che ho usato a registrare il pezzo con Ian Anderson quindi una batteria economica registrata con microfoni di Thoman di Fortuna però il fonico è bravo e poi ho una Ludwig del 1974 Orange Sparkle con due casse Tom e due timpani quella è da Tamarro proprio e poi ho una delle batterie di Minneman che lui mi ha regalato quando è andato ad abitare in America sono andato a casa dei suoi genitori che conosco bene da anni a prenderla che è una dv con due casse tre Tom due timpani il Gong Drum Charleston a cavo i piatti e tutto quanto lui la usa ancora quando viene in Italia però è qua di fianco montata adesso solo con un Tom e un timpano però tanto è verde ma se giro il computer con questa luce che c'è sembra nera quindi però è quella è una bella collezione hai i complimenti sì sì le uso tutte è che queste batterie qua quella che ho in Romania è una Vibe che è un'altra batteria pazzesca tutta in alluminio con la cassa da 24 adesso se dovesse dirti prendo una e la vendo no perché queste qua completano tutto quello che io voglio usare per suonare la Yamaha la posso usare per registrare la Tamburo va bene per tutto la Vibe se c'è una roba ad alto volume è perfetta la batteria di Miniman è sua però la uso anche io di tanto e la Ludwig se devi fare della musica anni 70 è perfetta con due casse il Tom e due timpani proprio anche a livello estetico è proprio quella che ci vuole bene guarda intanto qui ti ha scritto Alessandro Vagnoni ah è mitico il grande Sergio Ponti conosciuto proprio in una data Infernal Poetry Logicist tu sai chi è? lo conosci? Alessandro Vagnoni? eh guarda in realtà in questo momento non mi sovviene mi è familiare il nome è un altro batterista bravissimo che è Marchigiano che suonava con Infernal Poetry questo gruppo appunto Marchigiano dove ha suonato anche Andrea Rabuini il batterista che ha suonato negli Eiffel Duot però in realtà Alessandro è molto versatile cioè lui potrebbe suonare Death Metal e poi la sera dopo fare pezzi al Medeschi Marting e Wood e suonare autentico pure lì è bravissimo e so che per molti anni ha anche avuto uno studio dove registrava e faceva produzioni e adesso ha una band che si chiama Bologna Violenta e sono un duo se non erro provo ad andare a sentirli perché lui è proprio bravo è bravissimo suonare a questo punto faccio una domanda ad Alessandro se vuoi rispondi per caso tu hai suonato anche con Dark Lunacy che mi ricordo che per un periodo avevano il batterista degli Infernal Poetry mi sembra che sia lui perché sia lui e noi abbiamo suonato insieme ad un festival a Bari possibile mi sembra di ricordare e c'è qui sotto Brian Belloni che invece dice ogni volta salta fuori una batteria diversa ai concerti è vero è perché le alterno sempre poi ho avuto un periodo in cui molti amici o allievi me le prestavano me la presti la usi al vivo così la accordi e tutto infatti Brian è il chitarrista dei Beggars Farm sì c'è stato un periodo che credo ogni concerto andavo con una diversa però siccome non sono miliardari non erano mie la maggior parte di quelle erano l'allievo X che mi diceva gli ho messo le pelle nuove la porti al vivo sì io mi sono preso anche dei rischi perché a volte non sapevo cosa andavo a suonare però adesso vedo sempre quelle Brian mi sa il chitarrista più bravo con cui io abbia suonato suona con noi nei Beggars Farm da tanti anni e forse assieme a Fabrizio Frattuccelli mi viene in mente anche Sandro Bello di Torino che suona nel DVD di Mindman Brian è un genio suona e suona la batteria molto bene suoniamo assieme in una band che si chiama Life Long Journey che è una band di prog che Brian e Mauro Mugiati che suona anche lui con noi nei Beggars Farm hanno ideato è una band che va all'influenza dai Genesis agli Haken ai Dream Theater ai Pink Floyd c'è un album fuori molto bello che si chiama Life Long Journey vi consiglio di ascoltarlo ecco Brian ha suonato la batteria e la chitarra sul disco e ti dico io che la batteria è a livelli che io che faccio questo di lavoro lo so da 20 anni ho avuto a volte di problemi a suonarla come l'ha suonata lui va bene quindi un po' l'istrumentista avrei dovuto ammazzarlo da piccolo ha affogato mentre gli facevano il bagnotto era anche tipo 10 o 12 anni meno di me non è che dici sai 40 anni di esperienza non è neanche 30 anni Brian secondo me ma quando nasci col talento è così comunque sì Alessandro confermo che abbiamo suonato insieme perché mi scrive sì anche nei Dark Lunacy a Bari forse al Demo Day allora sì io ero là con con gli Shorts of Nile realmente al Symposium quindi ho suonato prima di te gran bella serata e avete fatto una performance fighissima voi quindi ti faccio i miei complimenti perché quella sera hai veramente spaccato sei bravissimo Alessandro poi qua c'è Mauro Muggiati grande Sergio maestro assoluto di professionalità e di vita Mauro l'ho appena menzionato nei lifelong journey Mauro suona appunto con noi nel Beggar's Farm ed è il polistrumentista della band canta benissimo suona le tastiere molto molto bene suona la chitarra acustica il basso tutto quello che c'è da suonare che non si può fare in quel momento ecco e presente Mauro è quello che in genere fa la base nei gruppi cioè quando noi non usiamo le basi nei Beggar's Farm Mauro ricopre tutti i ruoli anche suonando più strumenti nel suo pezzo che in genere avresti su una cosa registrata Paikori e negli lifelong journey è il tastierista e il cantante ecco quello ad esempio è un gruppo che io non sono parte del processo di scrittura io eseguo solo dal vivo meglio che posso le cose è un gruppo che quando andrò se mi trasferisco mi spiace mi spiace perdere sia i lifelong journey che i Beggar's Farm perché a parte che ogni tanto con Brian l'ho maledetto quando dovevo studiare i pezzi perché erano difficilissimi poi suoniamo con tutte le sequenze perché è tutto sincronizzato al video e i metronomi sono tutti programmati quindi ci sono tutti i cambi di tempo 4 quarti 19 sedicesimi 5 ottavi quindi ogni tanto diciamo che qualche perbaccolina mi è scappato nei suoi confronti però gli voglio bene comunque bene bene infatti Brian scrive è di parte perché suona con me esatto ma che tanto anche se lo vedessi suonare e non suonassi con lui direi le stesse cose perché chi lo vede suonare posso farti l'esempio di Martin Barr il chitarrista legge trotale quando abbiamo suonato assieme Martin mi ha detto ma chi è quel chitarrista lì? è Brian sono qui madonna è bravissimo più che venire da uno così è un complimento e beh sì ma poi guarda spesso almeno per quello che sono state le mie esperienze ho visto che molti musicisti diciamo di di alto calibro se così vogliamo dire spesso sono più umili di quanto si pensa rispetto magari a gente di circuiti più underground che invece ha spesso un atteggiamento anche più spocchioso se vogliamo dire così io quello che posso dirti ho avuto la fortuna tramite Beggar's Arm e anche a volte per merito mio di suonare con alcuni gruppi o con alcuni musicisti di nome mi viene in mente Mike Kenilli con cui ho suonato due tournee quando ero molto più giovane che è stato il chitarrista di Zappa di Steve Vai e adesso è stato il direttore musicale dell'ultimo disco di Devin Townsend o non so lui Martin Barr o Ian Anderson se io gli mando un messaggio su Whatsapp o una mail dopo cinque minuti mi hanno risposto non è sempre così purtroppo guarda lo so bene perché tempo fa abbiamo fatto una diretta su l'altro mio progetto diciamo sempre in realtà alla batteria di Drum Team che gestisco con David Folchitto abbiamo fatto una diretta con Mark Zonder batterista storico dei Warlord Fate Warning Fate Warning lui è un mito per me è uno dei miei preferiti gli ho mandato un'email per proporgli la diretta lui mi ha risposto dopo tre minuti alla mail dicendomi sì quando la dobbiamo fare grazie di cuore per l'opportunità gli ho solo detto guarda mandami delle foto che prepariamo una locandina e poi te la mando le foto sono arrivate cinque minuti dopo ecco una velocità una professionalità in tutto guarda è un batterista bravissimo non se lo ricordano in tanti io però mi ricordo di averlo visto dal vivo più volte con i Face Warning all'epoca i dischi erano un po' difficili da trovare in Italia e ho sentito parlare dei Face Warning le prime volte perché ne parlava pornoi allora poi mi sono comprato tutti i dischi dove c'è lui i primi sono un po' power metal ma poi ci sono dischi come Parallels o A Pleasant Shade of Grey che secondo me sono dei capolavori e mi ricordo di aver visto uno dei pochi batteristi nel rock che suonava quella traditional sì lui suonava quella traditional tra l'altro ha una botta pazzesca e io li ho conosciuti con Parallels il disco poi subito dopo ho preso i vari Inside Out Perfect Symmetry Present Shade of Grey e anche lo stesso Disconnected è allucinante perché poi lui praticamente quasi non usa il doppio pedale ce l'ha però l'ha detto anche nella diretta dice a me non piace molto usarlo perché fa troppo rumore preferisco utilizzare molto di più i piatti ha proprio una concezione molto melodica dello strumento e cioè lui è pazzesco perché non gli senti mai fare delle cose velocissime come poi quasi sempre diciamo di moda nel nostro strumento ma le costruzioni che fa sono pazzesche e se tu provi a trascriverle a risuonarle non ti girano mai bene come girano a lui vero è veramente incredibile lui dovrei proporre delle trascrizioni sue a Drameo perché non c'è niente per adesso dei face on eh no ma guarda penso già solo da Parallels ci sono delle cose a trascrivere che sono sono omicidiali già lo stesso intro di batteria del brano leave the past behind è un linear phrasing incredibile è vero è vero me lo ricordo sono belli quei dischi lì il cantante è molto bravo anche Ray Holder sì sì ma erano proprio a parte erano in stato di grazia ma suonavano proprio bene a parte ho sentito di recente l'ultimissimo album che hanno fatti i face warning ormai da tre album c'è con loro Bobby Jarzon becca la batteria altro fenomeno e l'ultimo album è veramente bello cioè riescono comunque a mantenere sempre un bel livello con il giusto mix tra melodia tecnica una band che secondo me avrebbe meritato anche un po' più del successo che ha avuto sì sì perché sono sempre rimasti underground alla fine sì sì nonostante abbiano fatto cose veramente grosse palchi incredibili però non sono mai esplosi come secondo me meritava io l'ho visti qualche anno fa qui a Roma all'Orion penso che eravamo 300 forse 500 persone io l'ho visti con Giarzo Beckham a Moncaglieri vicino a Torino 4-5 anni fa c'erano 131 paganti ecco quindi ancora peggio sì sì anche io quando l'ho visti qua Fera Giarzo Beck tra l'altro lui è allucinante perché è veramente un metronomo vivente non ha un colpo fuori posto è bravissimo quello lì è un altro batterista di cui si parla troppo poco guarda che veramente è un fenomeno incredibile sì sì io penso l'ho scoperto grazie a quella rubrica che usciva sempre su su percussioni che era realmente sui batteristi metal chi cavolo è che la faceva non lo ricordo comunque vabbè c'era questo articolo su Bobby Giarzo che parlavano del suo lavoro con gli spastic kink con Rob Balford con Sebastian Bach io da buon progettaro andai subito a cercare gli spastic kink ho presi due album e ho detto che cosa sta suonando questa persona che sono album veramente fuori di testa io li ho scoperti grazie a Luca degli Illogities che mi fece vedere il video dove lui e il fratello hanno musicato Bambi all'unison sì ecco grande grande Andrea Bianchi se voi non mi avresti deluso la rubrica era di Mauro Porcu e si chiama Full Metal Drummer è un nerd incredibile grande Andrea vedi vedi che se non ci fosse Andrea Bianchi andrebbe inventato l'archivio umano della batteria assolutamente assolutamente lui sa tutto comunque del fratello dei fratelli Giarzo che c'è fichissimo anche lo sketch del cartone animato sul topo non lo conosco si chiama The Cereal Mouse e praticamente hanno musicato tutto quello che fa il topo in questo cartone animato e sono delle cose ovviamente come sempre fuori di testa beh conoscendoli non ho dubbi nel frattempo ti saluta Giancarlo Rossin salutoni a Sergio Giancarlo Pork lui sa ah sì Giancarlo è il mio allievo che ha la Pork Pie per quello che è Giancarlo Pork ed è appassionato di strumenti ha sempre degli strumenti sotto mani sotto mani incredibili quindi ogni tanto mi fornisce qualcosa o io gli fornisco qualcosa brava persona soprattutto è la cosa più importante bene bene allora innanzitutto è già volata un'ora neanche me lo sarei aspettato però è quello che mi ha fatto arrivare una bottiglia questo su Facebook magari lo conosci Ingegner Stumpo sì sì lo conosco bene tra l'altro quando ha visto che ho condiviso la diretta si è dispiaciuto perché mi ha scritto lavoro non la posso seguire infatti gli ho detto guarda poi tanto te la puoi vedere tranquillamente in podcast tanto rimangono tutte proprio per quello mi ha spedito una bottiglia di whisky l'altro giorno allora ho dovuto berla in diretta in suo onore non tutta la bottiglia io l'ho conosciuto un paio d'anni fa ormai era settembre quando abbiamo fatto il clinic tour con Achilles Prister alla data in Toscana che ha organizzato appunto Andrea Bianchi l'ho conosciuto lì ecco questo sai cos'è lui è oltre ad essere un batterista di metal molto bravo perché io ho sentito delle sue registrazioni e non scherza anche se lui fa un altro lavoro è una persona che dovrebbe lavorare nell'ambiente musicale perché lui sa tutto della Tama ma lo sa in maniera non da nerd so delle cose un po' me la tiro lui sa tutto i modelli io ho avuto un problema con un tendicordiera e gli ho detto guai il suo rullante è bellissimo però adesso lo vendo perché continua a mollarsi il tendicordiera mentre suono io non sono leggerissimo magari come tocco però se gli stessi i rullanti li usa Dave Lombardo e John Tempesta sicuramente li posso usare anch'io perché picchiano più di me però continuava a smollarsi il tendicordiera lui si è fatto in quattro ha smontato i suoi tendicordiera mi ha dato tutte le dritte come fare e poi ha detto guarda c'è secondo me una brugola da quattro che se tu provi a evitarla sta fermo e mi ha risolto il problema queste persone qua secondo me lui probabilmente è molto contento del lavoro che fa tutto non lo so però se lui lavorasse per la Tama senza nulla togliere chi lavora per Tama adesso perché non li conosco e sicuramente fanno un lavoro però io parlo proprio a livello tecnico di conoscenza dello strumento e potrebbe essere il product manager numero uno al mondo perché lo sa con una passione e con senza volersi tenere nulla per sé lui ti dice tutto e mi ha risolto più problemi che io potevo avere di meccaniche che magari sai strumenti presi usati maltrattati lui mi ha detto fai questo quello e quello e vedrai che li usi tutta la vita incredibile ah beh sì come si dice proprio il vero conoscitore della meccanica dello strumento sì sì sa tutto e lui non l'ho mai incontrato di persona è solo via facebook però mi ha mandato il whisky è stato mitico grande grande beh sì guardi tante cose sulla meccanica degli strumenti le ho imparate perché lavoravo in sala prove quindi quando stavo da solo e si rompeva qualcosa dovevo capire perché si era rotta e che cosa dovevo fare quindi là magari impari a cambiare una piccola molla una vite o scopri che magari hai un bullone che va bene uguale ah sì quindi anche l'arte di arrangiarsi è una cosa che aiuta veramente tanto comunque come ti dicevo prima siamo arrivati ad un'ora praticamente di volata quindi io ti ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata e ringrazio tutte le persone che hanno partecipato perché è stato bellissimo sia chiacchierare con te sentire tutti questi aneddoti e vedere tutto l'affetto che queste persone hanno per te questo mi dà sempre tanta fiducia su quello che è l'ambiente musicale italiano che in certe giornate mi dà delle coltellate e poi quando faccio queste dirette invece mi ricorda che è pieno di gente fantastica io posso dirti per lasciarti che ho scoperto negli anni che alla fine quello che noi diventiamo non solo come musicisti ma come persone è un po' l'insieme di tutte le persone che tu incontri nella vita quelle che hanno un'influenza positiva io tutti quelli che hanno scritto anche se non li ho mai magari incontrati di persona o li ho incontrati per poco o ci ho a che fare molto ti danno una dritta ti danno un cazziatone ti fanno capire che hai fatto una stupidaggine oppure hanno una parola buona oppure non ne hanno nessuna però si comportano sempre bene ad esempio ti faccio di nuovo l'esempio di Brian Brian è una persona che difficilmente ti dice bravo oppure ti dice ti voglio bene per dire perché non è il suo carattere però intanto lui c'è sempre ed è una persona nonostante sia giovane che sa il fatto suo musicalmente secondo me sa come stare in mezzo alla gente o Mauro o Alessandro Sergio tutte le Andrea Bianchi scherzi cioè veramente alla fine uno cerca di comportarsi bene perché pensa vabbè ma loro si comporterebbero in questo modo qua oppure farebbero questo quello e quell'altro e cerchi di comportarti bene rigare dritto questo non esclude il fatto che ogni tanto anche io faccio ancora scusami il termine delle cazzate incredibili o prendo delle decisioni e dopo dico ma perché ho fatto sta cosa però con l'influenza di queste persone attorno uno cerca di comportarsi bene ma per carità siamo esseri umani le cavolate le facciamo tutti questo è è in dubbio aspetta rispondervola a Daniele Vacchini guarda Daniele ci ha risposto sopra Andrea Bianchi era la rubrica full metal drummer di Mauro Porcu esatto nel frattempo Brian Belloni appunto ci saluta Carlo Berlotti scrive grande Sergio preparazione e competenza concordo ecco devo dire ancora una cosa vai secondo me Carlo Bellotti è il più bravo batterista sconosciuto d'Italia non sconosciuto perché Carlo ha suonato con Giovanotti con Luciano Pavarotti Riccardo Cocciante ha lavorato in Rai come percussionista ecco lui forse è un musicista bravissimo che per caso suona la batteria e le percussioni perché potrebbe suonare qualsiasi cosa mi ha insegnato un sacco di cose poi non ci siamo più visti per alcuni anni per un'incompressione però è un batterista che suona io ogni volta che vedo suonare Carlo può suonare qualsiasi cosa rimango lì e dico ma come cavolo fa è diplomato al conservatorio in percussioni classiche e ha suomi pop e classica più grossi che ci sono in Italia però non è uno smanettone da tastiera quindi secondo me lo conosce troppo poca gente beh allora vedi buono che hai fatto questo momento di pubblicità perché anche io ho conosciuto un batterista che magari al momento mi era sconosciuto Carlo Bellotti e poi c'è un suo quasi omonimo nel jazz altrettanto bravo che si chiama Edoardo Bellotti che ci tengo a nominare perché anche lui è un altro che conosce troppo suona con Danilo Rea e un sacco di gente famosa nel jazz abita qua vicino e lo conosce un po' troppo a poca gente però sai cosa poi c'è tanta di quella gente che adesso mi dimentico sono sicuro non me ne abbiate male ah ma guarda io sono convinto che nella porta accanto c'è sempre qualcuno di fenomenale che purtroppo non conosciamo assolutamente sì aspetta che dice ah Carlo Bellotti scrive mandami Iban a parte gli scherzi ti voglio bene va bene dopo te lo mando ok comunque tornando a noi io veramente guarda ti ringrazio per questa bellissima iacchierata è stato un piacere era tanto che volevo fare questa iacchierata e ne sono rimasto veramente compiaciuto quindi ti ringrazio tanto Sergio grazie a te ho imparato tanto dagli aneddoti che mi hai ci hai raccontato ti faccio un in bocca al lupo per tutti quelli che saranno i due progetti magari poi ci saranno anche altre nuove dirette con cui ci racconterai come è la vita in Romania vediamo sarà sicuramente un piacere sentire queste nuove esperienze ringrazio tutti voi che avete seguito e animato questa diretta vai vai ti lascio con l'ultimo aneddoto io sono l'uomo degli aneddoti che mi conosce lo sa però sono tutte storie vere e ho sempre i testimoni di questa cosa nel 2003 io ero andato a sonnare in Francia con un gruppo folk con cui suonavo all'epoca e a ritorno ero in stazione a Parigi e in un bar riconosco un batterista che credo essere Danny Gottlieb che negli anni 80 è stato famosissimo in tutto il mondo per essere stato il batterista di Pat Metini allora io avevo 22 anni 23 mi avvicino e gli ho detto scusa sei Danny Gottlieb sì sì magari sono un batterista anch'io sono un tuo fan si ha detto subito che prendiamo un caffè e io gli ho detto ma dove vai vado in Italia a registrare un disco con i fratelli Nicolosi lui all'epoca era in turco i Blues Brothers però avevano dei day off allora dalla Francia partiva per andare in Italia a suonare e vi ha detto siamo sullo stesso treno fai che fermarti con me qua al bar poi dopo prendiamo il treno ce la contiamo ancora allora mi ha raccontato un sacco di aneddoti una persona fantastica mi ha fatto vedere che nella borsa dei piatti aveva un famoso ride che gli aveva regalato Mel Lewis il batterista di Big Band che era proprio quello perché quello ride è famoso perché gli manca un triangolo di piatto ed era quel ride lì io sapevo perché ho visto gli articoli su Modern Drummer allora l'abbiamo suonato con la gente che ci guardava al bar poi al momento di prendere il treno eravamo sul TGV saliamo e lui si accorge di aver dimenticato il marsupio con tutti i soldi che aveva guadagnato in tour finora e i biglietti aerei del treno del resto del tour al bar allora disperato mi dice tu fermati in mezzo alla porta del TGV blocca tutto io corro al bar lui corre al bar arriva lì e ovviamente era passato da poco l'11 settembre quindi tutto il bar era stato evacuato e c'erano gli artificieri con i cani vicino al suo marsupio pensando che fosse una bomba abbandonata lì guarda io ho cercato di convincere quelli della compagnia ferroviaria francese di fermare il treno siamo riusciti a far tardare il TGV di un quarto d'ora e io sono andato a fare da testimone alla polizia gli artificieri c'è tutta la stazione Charles de Gaulle di Parigi era bloccata per questa cosa perché noi ci siamo messi a parlare di piatti e lui si è dimenticato il marsupio e poi siamo riusciti a convincere tutti che non c'era niente lì dentro hanno mandato comunque un artificieri ad aprire il marsupio e tutto gli hanno ridato tutto cazziandolo e poi dopo 20 minuti di attesa il treno è partito un giorno ti racconterò altre di queste cose ne ho centinaia di aneddoti così beh bene guarda non potiamo concludere la diretta in modo migliore perché c'è aneddoto fichissimo esatto va bene grazie e ringrazio grazie a te ovviamente ragazzi io ricordo a tutti che questa diretta come tutte le altre rimangono salvati in podcast sulla pagina e piano piano io le sto riscaricando tutte e mettendo anche sul mio canale YouTube quindi quando avete voglia di passare un'oretta e più anziché Netflix o qualche altra cosa avete le dirette di Transworld a disposizione per farvi quattro risate e ascoltarvi tanti aneddoti quindi ciao a tutti buone suonate a tutti ragazzi e ci vediamo martedì prossimo con un'altra diretta perché sarà di martedì e non di mercoledì quindi ciao a tutti e ancora grazie a Sergio grandissimo